Quando si tratta della nostra dieta, tendiamo a concentrarci sugli alimenti che possono aiutare ad aumentare i nostri livelli di energia e a ripulire la nostra pelle. Tuttavia, ciò che mangiamo influisce su quasi tutto e alcuni cibi possono persino aiutarci a vivere più a lungo, oltre che a farci sentire bene. Mantenere una dieta sana può proteggerci da una serie di malattie. Nel video di oggi parleremo dei 10 alimenti che possono aumentare l'aspettativa di vita e la salute. 1. L'olio d'oliva L'olio d'oliva è un alimento base della dieta mediterranea, in quanto è ricco di grassi monoinsaturi, che possono aiutare a prevenire le malattie cardiache. Una ricerca del British Medical Journal ha scoperto che mangiare, seguendo la dieta mediterranea, è in relazione con telomeri più lunghi, quindi a una vita più lunga. Per ottenere i migliori risultati, l'ideale è assumere olio d'oliva con altri componenti della dieta mediterranea, tra cui cereali integrali, frutta, verdura, noci e legumi. 2. Cioccolato Il cioccolato contiene potenti antiossidanti, che, secondo una ricerca dell'Università di Cambridge, possono aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache, diabete e ictus. È meglio optare per il cioccolato fondente, con il 70% di cacao e oltre, che contiene una maggior quantità di antiossidanti. 3. Aglio La dietista Lisa Hug a Basel dice via email che L'aglio contiene sostanze fitochimiche che possono prevenire alcuni tipi di cancro. Questo cibo pungente, secondo diversi studi, può anche aiutare a ridurre la pressione sanguigna e il rischio di malattie cardiache. 4. Salmone Secondo Garcia, questo pesce grasso è pieno di acidi grassi omega-3 sani per il cuore. Uno studio di Annals of Internal Medicine ha scoperto che le persone che consumano soprattutto acidi grassi omega-3 hanno meno probabilità di morire per alcune cause, tra cui l'ictus e, in media, vivono due anni in più rispetto alle persone che consumano meno questi nutrienti. 5. Frutti di bosco Sempre secondo Garcia, i frutti di bosco sono particolarmente ricchi di polifenoli, degli antiossidanti associati alla salute del cuore, al minor rischio di cancro e al fatto di vivere più a lungo. Secondo diversi studi, le antocianidine dei mirtilli, un antiossidante, possono aiutare ad allungare la vita. 6. Broccoli C'è un motivo se la mamma ti diceva sempre di mangiare tutti i broccoli nel piatto. Uno studio dell'American Journal of Clinical Nutrition ha scoperto che le persone che mangiano più frutta e verdura, in particolare le verdure delle crocifere, tendono a vivere più a lungo di quelle che non consumano alimenti di questo gruppo. 7. Noccioline Uno studio della Harvard School of Public Health ha scoperto che le persone che mangiano frutta secca ogni giorno hanno meno probabilità di morire di cancro, malattie cardiache e malattie respiratorie. Dice Garcia che le noci sono anche ricche di grassi sani per il cuore, compresi gli omega 3 e anche acidi grassi monoinsaturi. Includere le noci nella nostra dieta quotidiana può anche aiutare ad abbassare il colesterolo cattivo, LDL, e ad aumentare il colesterolo buono, HDL, che rende il cuore più sano e più efficiente. 8. Avocado Gli avocado sono molto più che gustose imbottiture per panini. Uno studio del Nutrition Journal ha scoperto che chi mangia avocado ha un rischio ridotto del 50% di soffrire di malattie metaboliche rispetto a chi non mangia avocado. Questo potente frutto contiene grassi monoinsaturi, fibre e altre sostanze fitochimiche che aiutano a combattere le malattie cardiache, il diabete, l'ictus e altre malattie ancora. 9. Tè verde Secondo uno studio pubblicato su The Journal of the American Medical Association, bere una tazza di tè verde può ridurre il rischio di morire. Del 31% se sei una donna e del 22% se sei un uomo. In particolare, come dimostra la ricerca, il tè verde protegge dalle malattie cardiache e dagli ictus. Citando Garcia, confezionato con antiossidanti, il tè verde è un modo delizioso e facile per assumere quei polifenoli. Ma gusta il tuo tè senza aggiungere zuccheri. 10. Peperoncino La ricerca ha messo in relazione le spezie, in particolare quelle con la capsaicina, che si trova nei peperoncini alla longevità. È quanto afferma Molly Morgan, rdcdncssd a Basso via email. Lo studio svolto in Cina ha scoperto che coloro che mangiavano cibo piccante una volta alla settimana o più avevano circa il 10% di probabilità in meno di morire durante il periodo seguente di 7 anni rispetto alle persone che mangiavano cibo piccante meno di una volta alla settimana. 11. Carote Le carote contengono vitamina A, antiossidanti e altre sostanze nutritive. L'evidenza suggerisce che mangiare frutta e verdura più ricca di antiossidanti, come le carote, può aiutare a ridurre i rischi di cancro e malattie cardiovascolari. Le carote sono anche ricche di vitamine, minerali e fibre. 12. Uova Un tempo si pensava che le uova potessero aumentare il colesterolo cattivo, ma la ricerca ha dimostrato il contrario. Le uova non hanno tale effetto sul colesterolo, bensì hanno alcuni effetti benefici per la salute. Le uova sono un alimento proteico completo, il che significa che contengono tutti e 9 gli amminoacidi essenziali, che sono gli amminoacidi necessari da assumere dagli alimenti. Le uova aiutano a mantenere un peso corretto, e gli esperti dicono che non sono affatto in relazione con le malattie cardiache. 13. Zenzero I principali benefici per la salute dello zenzero sono dovuti principalmente al suo elevato contenuto di antiossidanti. Contiene almeno 25 diversi tipi di antiossidanti che forniscono vari benefici per la salute, dall'abbassamento della pressione sanguigna, al controllo della glicemia, alla regolazione dei livelli di colesterolo nel sangue. Una ricerca scientifica che ha esaminato la relazione tra il cancro e lo zenzero, ha scoperto che il gingerolo, un potente composto antiossidante e antiinfiammatorio, che si trova nello zenzero, ha dimostrato di avere effetti inibitori del cancro. 14. Curcuma La curcuma è uno dei migliori alimenti che si possono assumere per la longevità. Questo perché contiene un potente composto bioattivo chiamato curcumina. La curcumina è forse il più importante dei composti antiossidanti della curcuma, in quanto un numero crescente di prove dimostra che possiede moltissimi effetti benefici per tutto il corpo. La curcumina è inoltre conosciuta per i suoi effetti antiossidanti e antiinfiammatori, ma la ricerca dimostra anche che rafforza il sistema immunitario, promuove una buona salute mentale e protegge il cervello e il cuore. Grazie